Ciao gente, come da voi richiesto faccio un altro tutorial, questa volta facciamo Generale del grande De Gregorio. Come potete fare, con questa modalità, sia la melodia che l'accompagnamento, finché poi arrivate alla strofa e lì, se sapete cantare, è bene. Allora ve la davate, se no fate cantare qualcun altro. Ripetiamo di nuovo, facciamo l'intro con l'accompagnamento in melodia contemporaneamente, fino a che arriva poi la parte del cantato. E sulla seconda corda, prima, seconda. Così via Sembra vuoto C'è un generale dietro la collina, ci sta la notte, cruche d'assassini. E mezzo a un prato, c'è una collatina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di cinquant'anni e di cinque figli, venuti al mondo come conini, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Di nuovo la parte, l'intro Ciao belli! Allora, se volete mettermi nei commenti alcuni brani che volete fare, che volete che faccia dei tutorial, li faccio volentieri, anche per uccidere un po' di tempo durante questa quarantena. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!